nomine patris et fili et spiritus sancti vorrei potenunciarlo allora vorrei tornare col coltello per farmi paura ora ti spiego io come è andata i ragazzi hanno capito che lo specchietto non c'era più e sono tornati indietro a trovarlo tu li hai visti e ti sei avvicinato era già morto non era morto e tu non puoi saperlo e sai perché perché non ti sei avvicinato per accertarti sai cos'è questo omissione di soccorso ci sta fino a un anno di carcere preparate Ivan andiamo le sue generalità come? carta d'identità perchè? l'abbiamo già vista in commissariato o sbaglio? questo le va bene capisco signor Battini purtroppo dagli ultimi esami vedo che la funzionalità dei suoi rini è peggiorata avendo una insufficienza renale cronica penso sia abbastanza normale no? sì signor Battini ma la malattia è arrivata allo stadio 5 poteva andare peggio poteva essere allo stadio 6 mi sa che non c'è allo stadio 6 no la malattia ha solo 5 stati grigio pianco poi giorgio ma fossi juventino vai 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 ci vuole colore? no colore grazie 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 a tutti